Da Corti a Briaschi, bel tiro di Briaschi, 1-0 per il Geno. Da Antognoni a Pecci, leggera finta, pallone sotto Martina, 1-1. Va poi in vantaggio la Fiorentina, colpa di testa di Passarella, arriva Pulici e segna 2-1. Il pareggio è un'autorete di Passarella, guardate la palla rimbalza nel ginocchio di Passarella, autorete, tutti contenti, forché Antonelli e Rossi li vedremo tra un secondo, che sono stati espulsi e qualche tifoso che finirà l'anno non bene. A te la linea Paolo Valenti.